ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi farò vedere un video haul per quanto riguarda Sephora allora questo video haul per quanto riguarda questo scatolino perché ho fatto svariati video haul no ho fatto svariati acquisti non video haul ancora non li ho fatti sono indietro con farvi vedere tutto quello che ho acquistato perché questo ad esempio risale a quando c'è stato quel bug da Sephora dove qualsiasi cosa voi prendevate c'era lo sconto del 30% ebbene sì Stefania colpito purtroppo e dico purtroppo ho preso solo poche cose perché non avevo soldi nella carta e in quel momento non ci ho pensato perché ero molto molto gasata nel far acquisti e tutto che non ho pensato a farle arrivare a casa e pagare in contrassegno e quindi ho lasciato qualche cosa ma tutto quello che c'è in questa scatola io l'ho preso con il 30% si può dire allora cosa ho preso vi faccio vedere è un monomarca questo video perché ho preso delle cose della Uda Beauty allora per prima cosa ho preso due pennelli per quanto riguarda Uda Beauty e sono il face baked blend che sarebbe questo e il face sculpt e shade che sarebbe questo adesso li apriamo e ve li faccio vedere allora ero molto indecisa nel prenderli volevo prendere altri pennelli ma in quel momento come vi ho detto ero in macchina mentre stavamo prendendo le cose all'ingrosso ho pensato diamo una sbirciatina sapete quando loro devono fare la spunta quindi voi siete fermi a non fare niente è lì che si fanno i danni allora questo è il pennello mi piace tantissimo anche la forma che ha mi piace veramente tanto e quando ci saranno gli altri sconti li andrò a prendere questo dovrebbe essere ehi 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 vedo un pelo più lungo comunque vabbè poi lo proverò prima lo devo lavare non fa puzza allora questo dovrebbe essere adatto per quanto riguarda il fondotinta e questo per quanto riguarda il correttore ovviamente li proverò e ve lo farò anche sapere è uno sculpt e shade io credo che sia adatto per queste cose poi ovviamente vi farò sapere poi mi dite come si mette ora il tappo perché non lo so mettere aiuto mi si fanno tutte le setole cioè come si mette ora il tappo come faccio mettere il tappo non lo posso mettere il tappo questo lo posso passare di qua che non è così ma è così giusto si non proprio Stefania che litiga con ok ecco fatto quindi questo lo devo spostare e lo devo mettere al contrario eh 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 ecco ah no così vabbè è giusto no no entro in fissa poi con queste cose no 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 è giusto come l'ho messo era giusto così poi guarderò il video di come l'ho trovato comunque questo è il primo ovviamente sotto vi scriverò i vari prezzi e tutto quindi questo è il primo dopo aver litigato con il pennello e questo è l'altro pennello che ho preso e sarebbe questo non mi ricordo se era per aia se era per il blush se non mi sbaglio mi chiudono fortissimi duo handle setting e complex brush no è brush no blush baked e blend comunque poi ho preso questo pennello che loro dicono che sia ottimo anche a mettere allora i pennelli potete utilizzarli come volete nessuno vi dice come si devono utilizzare io ad esempio vedo molti pennelli dove c'è scritto tipo cipria ma io li utilizzo per il blush o per altre cose quindi i pennelli li potete utilizzare come volete questo è l'altro pennello c'è scritto face baked e blend e da questo lato potrei mettere anche bene l'illuminante questo blush e illuminante sono molto molto buoni questi pennelli devo dire la verità ora rimetterli sarà un caso eccezionale anche questo non so da dove intanto lo devo utilizzare quindi ciao poi cosa ho preso ho preso le due palettine questa ho preso quella chiara e quella scura e poi ho preso i due rossetti sempre di Uda Beauty allora per quanto riguarda le palettine io ero molto indecisa le volevo tutte e tre ma tra le tre quelle che volevo prendere in assoluto erano queste due e poi non so se avete visto il regalo di compleanno una coppia dei miei amici mi ha anche regalato la palettina di mezzo quindi ce l'ho adesso tutte e tre e la palettina ce l'ho qua nell'espositore ovviamente ed è questa quindi io le posseggo tutte e tre ve li faccio vedere questa è la light nude a me piacciono tantissimo queste palettine io quelle di Uda Beauty mi ci trovo benissimo ho visto quelle di Anastasia e sinceramente non mi sono piaciute era di Anastasia quelle piccoline non mi ricordo se era Anastasia si era Norvina volume 1 quelle piccole non mi piacciono non mi piacciono i colori che c'è all'interno comunque la palettina è questa molto molto bella e all'interno trovate lo specchio per vedervi in e questi bellissimi bellissimi colori mi piacciono tantissimo mi piacciono tantissimo questi colori perché veramente sono l'ideale per me perché utilizzo molto queste tonalità mi piace il fatto che ci sia questa parte abbastanza fredda e questa invece qua sotto che è un po' più calda non so voi cosa ne pensate questi colori io li utilizzo perché assomigliano molto alla new nude sempre di Uda Beauty e li volevo assolutamente cioè questo colore è fantastico questo fantastico non vedo l'ora di utilizzarla e ovviamente poi vi farò il video l'altra che ho voluto prendere è stata la rich nude la ai ogni volta questi packaging non vedo l'ora di togliere tutto anche se non so se tenere le scatole perché anche delle altre piccole le ho tenute questo è il packaging del rich nude molto molto bello scuro al confronto di quello che è molto più chiaro e i colori sono questi fantastici qua allora sono bellissimi anche questi mi piacciono mi piacciono proprio queste tonalità tutta la composizione di come è fatta la palettina a me veramente piace tantissimo mi piace questa tonalità di rosso borgogna che c'è anche questi colori non vedo l'ora di utilizzarla proprio per vedere se questi colori stanno bene sul mio incarnato perché devo dire è ottima ottima io poi l'ho vista da sephora di presenza e sinceramente mi è piaciuta tantissimo ma veramente tanto 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 l'ultimo prodotto che vi faccio vedere per quanto riguarda Uda Beauty sono i rossetti e io ne ho presi due ne ho presi due perché questi rossetti da sephora a catania non ci sono né su al centro sicilia né a catania proprio a catania e quindi li volevo prendere ero molto convinta di prenderle e tutto ma non vedendo gli swatch ho paura che poi i colori non mi piacciono e quindi non l'ho mai presi c'era lo sconto venivano il 30% e meno quindi ho pensato era il 30% o era 30 euro e meno ora non mi ricordo in caso ve lo scriverò perché vi posso dire anche i prezzi proprio scontati perché c'era nel sito c'è scritto e niente quindi mi sono decisa erano scritti nella mia wishlist c'erano anche altri nomi però degli altri nomi erano molto molto insicuri quindi ho preso questi due che adesso vi faccio vedere uno si chiama Dirty Tirty io ho guardato vari video per quanto riguarda i bullet swatch sulle labbra ma la maggior parte erano ragazze di colore quindi una carnagione molto più scura della mia e quindi ero insicura nel prenderlo perché se diciamo questi rossetti li vedo di presenza quindi li swatch e so super giù che mi possono piacere li vorrei acquistare perché mi piacciono anche come stesura perché ho visto sbagliati video quindi mi sono veramente innamorata di questi rossetti ma vederli così non so non vorrei prenderlo una fregatura allora questo è Dirty Hirty questo colore qua il bullet è molto bello cioè è bello veramente bello ovviamente calamitato e questo è il rossetto questo bellissimo colore che vi sguoccerò come infatti questo è il colore che a me piace tanto è un malva scuro ed è molto molto bello questo è il colore devo dire che mi piace tantissimo bello e questo è ad esempio un rossetto che mi piace mi piace come tonalità e tutto quindi ottimo acquisto il secondo che ho preso è Piedai Piedai non lo so come Piedai Piedai e anche questo l'ho visto swatchato sempre di americane e quindi packaging uguale solo il primo è molto più marroncino questo è molto più rosato e questo è il colore mi piace tantissimo questa forma che hanno il fatto di essere anche tipo cipriati ed è una cosa infatti indovinato meno male avevo una paura pazzesca che non erano colori che posso utilizzare e questo è l'altro colore molto più rosato ovviamente del primo che vi ho fatto vedere i colori sono bellissimi mi strapiacciono tantissimo meno male che sono riuscita ad acquistare i colori giusti e niente non lo so ditemi se se voi avete acquistato questi rossetti se vi siete trovati bene se vi siete trovati male ad esempio se qualcuno ce l'ha se può fare degli swatch metterli su instagram non lo so o mandarmeli perché io volevo prendere altri di questi rossetti però ovviamente non avendoli qui di presenza la mia paura è che non che non mi piacciono ma in poche parole quindi ho paura nell'acquistarli però questi veramente ci ho azzeccato perché sono i colori che a me piacciono tantissimo quindi sono molto molto contenta niente ragazzi che dirvi di più io il video lo finisco qui scrivetemi ovviamente un commentino come vi dico sempre scrivetemi un commentino bello brutto basta essere educati ditemi cosa ne pensate dei miei acquisti e se avete comprato altri bullet di Huda Beauty scrivetemi quali sono i vostri preferiti io per quanto riguarda questo video ho finito vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti